Siamo qui con David Okeke, ciao David Allora, come si vive la pallacanestro dal di dentro ma un po' dal di fuori perché un po' che non scendi più in campo? No, vabbè, assolutamente serena e tranquilla Ovviamente uno si deve anche concentrare un po' su quello che è fuori la pallacanestro e non solo proprio la pallacanestro in sé ma magari adesso qualche attività fuori la sto facendo tanto per aspettare il mio rientro ovviamente Ad esempio sei tornato a scuola? Sì, assolutamente, quello è importantissimo, scuola e insomma sì, sto studiando Come vedi se ti posso chiedere questa squadra dall'esterno anche se comunque la vivi quotidianamente perché so che comunque i compagni ti coinvolgono comunque nelle varie attività insomma se vuoi darci un giudizio dal di fuori ma neanche troppo Sì, sì, no, assolutamente, io vedo comunque grande impegno da parte delle ragazze adesso appunto stanno arrivando nuovi quindi insomma il gruppo dovrà essere bravo a insomma introdurli a farli rendere partecipi quindi sicuramente la vivo da spettatore come un ragazzo qualunque faccio il tifo Ultima domanda, quanto ti piacerebbe o quanto ti piacerà essere poi, sai già, allenato da Larry Brown che è la pallacanestro insomma per un giovane come te puoi avere molto da imparare No, assolutamente, insomma sono stato un po' sfortunato a non subito magari partecipare con lui vivere insomma quello che è Larry Brown però insomma non vedo l'ora e ci sarà tempo Grazie 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 Grazie